Allora, questa è la sede di scelta civica con Monti per l'Italia. È a disposizione di tutti, noi siamo qui per lavorare insieme. Per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, qualsiasi proposta il cittadino voglia fare, noi siamo qui pronti ad accoglierlo, perché questa sede è una sede attiva, una sede in cui bisogna lavorare, bisogna portare la propria esperienza. Apriamo le porte, quindi spallanchiamo le porte, saremo sempre presenti con degli orari prefissati e vi aspettiamo tutti, non mancate. Date il vostro contributo, perché è molto importante in questo momento essere protagonisti, poter dire la vostra e dare il vostro aiuto. Abbiamo bisogno di tutti. Grazie.